Sanità, cultura ed eccellenze. Sono questi tre punti cardini sui quali punta il senatore Magorno, attuale sindaco di Diamante, per la sua campagna elettorale per la poltrona di governatore della Calabria. Ci sono battaglie che devono unire e una di questa è quella sulla sanità. Per questo propongo a tutti i candidati a presidente della regione di firmare un patto che ci impegni a sostenere la fine della stagione del commissariamento, l'immediato ripiano del debito da parte del governo, la riapertura degli ospedali chiusi e il potenziamento di tutte le strutture territoriali. Ernesto Magorno annuncia anche la prima tappa del viaggio tra i talenti della Calabria in vista delle prossime elezioni regionali. Si parte da Vibo Valencia, da poco eletta capitale del libro 2021, continua Magorno sabato 5 giugno per un appuntamento che si terrà a Palazzo Santa Chiara alle 11. Iniziamo il nostro tour elettorale, spiega il sindaco Magorno, con il preciso intento di portare alla ribalta la calabria delle bellezze e dei talenti e abbiamo scelto come punto di partenza Vibo Valencia che in qualche modo rappresenta in modo simbolico il volto di una regione carica di potenzialità e ricchezze e ha bisogno di credere in se stessa per invertire un destino che nell'immaginario collettivo la vorrebbe condannata all'emarginazione e alla povertà. La leva del riscatto sarà potente e noi intendiamo azionarla.